Ciao a tutti ragazzi di GDF Clan, io sono Lorix e oggi sono qua in compagnia di Zoliac Bella a tutti ragazzi E oggi ho fatto una mia game strike in poco più di 110 secondi Purtroppo poteva essere molto più veloce però un mio alleato crasherà E ovviamente con la mia fortuna entrerà un'altra persona che anziché starsene per i fatti suoi Continuerà a invadere lo spawn facendola appunto switchare e rallentando di molto la mia game Comunque il tempo già sta scorrendo e io lascio la parola a Zoliac che ha da dirvi delle cose molto importanti Allora ragazzi ultimamente state vendo sul nostro canale molti video di Call of Duty Black Ops 2 e MW3 Comunque sono i giochi ancora vecchi e chi è di Call of Duty Ghost vedete poco Questo perché? Perché noi ci stiamo cimentando e stiamo provando a fare dei record mondiali Con armi assurde quindi game strike davvero fuori dal comune Però questo porta via parecchio tempo perché è davvero difficile E quindi noi nel mentre per non lasciarvi senza video continuiamo a caricare magari le saghe vecchie Ma comunque sono gameplay di altissimo livello addirittura dei record italiani Quindi voi non smettete di seguirci perché noi vogliamo fare questi record mondiali su Call of Duty Ghost Per portare l'Italia ancora a un livello maggiore per quanto riguarda i gameplay e spaccare il culo ai francesi, agli inglesi, a tutti quegli stronzi anche americani obesi Per raffermarci proprio e far vedere che anche noi su sto gioco possiamo dare tanto E io spero che ci capiate perché se poi noi riusciamo a portarvi davvero questi record mondiali Vi sarete davvero davvero felici in quanto la cam strike col PDV ha riscosso un successo assurdo Niente il video sta giungendo al termine Ringrazio Lori per essere stato qua con me e per averci portato questo splendido gameplay Passate dalla pagina Facebook, lasciate tanti mi piace e bella a tutti ragazzi, un saluto Non ti piacciono i GTF Non ti ammazzati Figa sparati Quando arrivo devi farmi passare